Loro hanno ricevuto noi in questo paese, dobbiamo fare anche una cosa per ringraziare loro. A Monte San Savino, migranti al lavoro per la cura dei beni pubblici, si chiama una Monte di Colore ed è un progetto nato dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio che si occupano di accoglienza. Io sono un mulatore, mi piace questo lavoro. 21 in tutto i migranti ospitati nelle casse del territorio comunale che in questi giorni si stanno occupando della tinteggiatura dei termosifoni nella scuola primaria Magini di Monte San Savino e nell'istituto comprensivo di Montagnano. Abbiamo individuato delle piccole manutenzioni che normalmente faremo con i nostri operai comunali e affiaccandoli proprio a loro abbiamo cercato di inserire ragazzi richiedenti asilo. È stata una loro scelta volontaria, non tutti hanno aderito, però è stata un'adesione abbastanza massiccia e questo fa capire che anche loro stessi vogliono in qualche modo integrarsi e vogliono rendersi disponibili. In più c'è una componente da non sottovalutare che non è solo il rendere qualcosa alla comunità ma è l'entrare finalmente a far parte in modo attivo di una comunità. Come si dice sempre e molti dicono aiutiamoli a casa loro, in realtà in questo caso sono loro che ci aiutano a casa nostra.